Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Sarascino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi ragazzi rispondo ad una signora che mi chiede, dottore, mio marito soffre di acufene da tantissimi anni e si può con il suo metodo di CS dargli sollievo o eliminare gli acufeni con l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola? Io gli ho risposto di sì, anche con un solo Audi MP3 di CS come ha fatto tantissima gente, centinaia di persone dal titolo No Acufene un Audi MP3 di CS creato ad arte ad hoc con delle parole naturali, semplici, trasparenti, però creata con tantissimi anni, con tantissima arte che ha quasi un secolo di esperienze, di un antico sapere e che provengono direttamente da Los Angeles Beverly Hills da due grandissimi artisti dell'ipnosi, vera e professionale, la dottoressa Rina Brunini e il professor dottor Miguel Angel Garai io ho messo soltanto un 30-40%, ti posso garantire che funziona, funziona, funziona perché le tue orecchie, le comande, il tuo subconscio, il tuo subcosciente il tuo piloto automatico, la tua mente, sono solo parole che ti possono fare solo del bene o ti sentirai sollevato se hai ocufene, funziona anche per chi non vuole il tuo aiuto, chi non può ricevere il tuo aiuto e che magari né dal vivo né online, ecco perché il metodo di CS, l'ipnosi di CS è un metodo unico al mondo perché funziona anche per chi non vuole essere aiutato in nessun modo, anche a sua insaputa, contro la sua volontà tra virgolette, è sempre a fin di bene, dire contro la volontà è brutto dirlo si può utilizzare anche se lui non vuole essere aiutato, è sempre a fin di bene, d'accordo? per cui funziona ragazzi, funziona, devi soltanto seguire le istruzioni, è molto facile, è facilissimo è la prova di un nonno, è la prova di un idiota, è la prova di un pigro e meravigliarti del potere della tua mente e aggiunga anche del potere del tuo caro, della tua cara che magari vogliono, non vogliono, è importante, credono, non credono, è importante, è importante fare fammi tutte le domande del caso, risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e ai miei impegni visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fanpage su facebook, ipnosi e autoipnosi del dottor Claudio Saracino iscriviti per favore a questo canale youtube, benessere ipnosi, soluzione di CS del dottor Claudio Saracino e fai share, condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita come è successo a me nel 2008 e a centinaia e centinaia di persone nel mondo e seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter benessere ipnosi, soluzione di CS del dottor Claudio Saracino un bacio, un abbraccio e alla prossima, ciao